Sono due volte in un'interessa mondiale, mi sono preso... Bravi, è un incontro di atleti. Brava, 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 non mi faccio male. Brava, brava. Adesso, non da. E' proprio sono i presidenti di un'interessa mondiale. E' un'altra mia, brava, si chiama la, sono un'altra finanza, segnato, questo è un atleta. Ecco qua. Non faccia smorzi. Niente. Curiosando, tra domanda e risposta. A chi deve il suo nome il grano italiano Senatore Cappelli? Prima della risposta, curiosiamo un po'. C'è una storia d'amore che nasce dal seme in purezza del grano Senatore Cappelli. Una varietà antica e pregiata. E' il racconto di una filiera integrata 100% italiana, dal campo alla tavola. Le Stagioni d'Italia seleziona i propri campi più belli per coltivare questo grano dalle qualità uniche e rare. Nel rispetto del territorio, nei tempi della natura e dell'ambiente, utilizzando tecniche di agricoltura di precisione. Nasce la pasta Le Stagioni d'Italia, trafilata in bronzo, con essiccazione lenta, fonte di proteine e fibre. Ideale per ogni ricetta.